Mi ha chiamato 250 mila volte, mi ha sollecitato l'acqua minerale in ogni modo, in ogni modo Ed è un'ora che stiamo provando a dirgli, guarda, ti stiamo portando l'acqua, abbiamo chiesto ai nostri agenti della struttura di sollecitare lui a rispondere al telefono, malello, giustamente, stando a telefonare di notte Di giorno si è addormentato Cucciolo, lello, stai guardando questo video, lello Occhio, lello, occhio, lello La notte si deve dormire Ecco Devi rompere alla gente Di mattina invece Sei sveglio Puoi prendere l'acqua minerale Ora appena si sveglierà e si sveglierà quando noi ce ne saremo appena andati Perché la legge di Murphy Certo Noi andremo giù alla discesa e lui chiamerà E vorrà l'acqua No, e vorrà sentirci, vederci Ma noi siamo venuti e abbiamo provato a chiamarti tante volte, lello Non devi chiamare la notte, lello Perché se chiami la notte, prima o poi qualcosa succede Di giorno devi rispondere al telefono e devi essere vigile, sveglio Noi intanto ti lasciamo l'acqua minerale Ecco, gli spiccioli Ti attacchi Non possiamo lasciarti gli spiccioli Anzi, proprio oggi avevamo un malloppo Avevamo oltre mila euro di spiccioli da darti E quindi, pazienza Settimana prossima Settimana prossima Settimana, martedì No, verremo un'altra volta Dici Dici Ma non lo so Ma appunto Bisogna punirlo per questo atteggiamento Che dici E quindi ci vediamo La settimana prossima La settimana prossima Andiamo a lasciare l'acqua al nostro agente a lavare Saluta a tutti Il nostro infiltrato Il nostro infiltrato Lo salutiamo L'acqua sta qua Lello sta a dormire E non ce ne andiamo Dobbiamo lavorare E chiaro E che siamo a pettinare a Lello Brava Ovviamente È incredibile Ha chiamato lei Pronto? Dove sta chiesto? Eh no, ormai sono andato via Lello T'ho provato a chiamare per un'ora E tu non hai risposto al telefono Quindi Pirla Ho lasciato Vedi? Pirla Ho lasciato La faccia del sonno Stavi dormendo Cucciolo? Eh? Cucciolotto Pesca piccolino Stavi dormendo? Non ti sento Lello Ho detto Non stai dietro Non è Siamo andati via Hai capito? Ti ho lasciato l'acqua Tu la notte Ma dove sta là? L'ho lasciata All'ingresso Tu la notte Devi dormire La notte Devi dormire Invece il giorno Si sta svegli E si fanno le cose Le attività Si risponde al telefono Se tu dormi Se tu invece di notte stai sveglio È chiaro che poi di giorno Vai dormendo Dormendo La notte leone Hai capito Lello Tu sei come la canzone Sammos 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 Di giorno Ma la notte No 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 Così si tu No no Secondo me Leone di notte Lascia perdere Capito Lello Ora Oggi avevo un sacco di spiccioli da darti E molti attacchi E se vuoi passare Dammi le posti Passare E ormai siamo andati via Le Stiamo andando a lavorare Capito Dai tanto ci dobbiamo Ma io ci vuoi postare Eh no Oggi no Ci dobbiamo vedere domani Per la telefonata Probabilmente Capito Al massimo Al massimo Al massimo All'acqua All'acqua Si è lasciata là All'acqua L'abbiamo lasciata Al massimo Al massimo Al massimo Al massimo Al massimo Al direttore Eh scusa Ciccio Noi lavoriamo Ciccio Eh Direttore Lei è Ti sei fatto il riposino Riposino fa Cucciolo Cuccioletto Lo vedi Lellino Cuccioletto Lello Bello 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 Vuoi il beron Direttore Hai ancora la faccia La forma del cuscino La forma del cuscino In faccia A che ora ti sei addormentato Stanotte Io mi addormentato Cioè Quattro cazzo A che ora ti sei messa a dormire A che ora ti sei messa a dormire Le 23 Le 23 Eh le 23 Battino va Beh Lello È stato bello Ci vediamo la settimana prossima Ciao Un bacio Salute a tutti Salute 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 A chi A chi Va bene Va bene Va bene Mi dispiace Ma era ovvio Che noi Scendessimo E tu ti facessi vivo Quando si dorme Non mi dispesto Caffè No Quando si dorme Di notte si dorme Non di giorno Eh Va bene Va bene Va bene A te Occhio A te Occhio Ti seco Arrivederci Ciao Ciao direttore Mi stai evitando Vabbò Ti sei rattristato Non mi sono rattristato Però ti devo parlare Vabbò Eh va bene Di che cosa mi devi dire Eh Non di persone Non in video Occhio Ma mi dici L'argomento Almeno Poi ci sentiamo Dopo No Non di persone Niente Ma è quella cosa lì Che cosa No È una cosa Molto È stata A me È quello È quello Che penso io Non è quello Che hai pensato Però È quello Che hai pensato È quello Che hai pensato E' quello che pensi tu Vabbè poi Eh sì Bisogna risolvere Il problema È un grave problema Insomma L'altro Si gira Vabbè Secondo me È un grosso problema Ci sentiamo dopo Mi dici il fatto Ok Papo Ciao 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 Cos'è Incredibile Siamo stati a dirlo Non è niente di concordato Siamo scesi E lui Ha chiamato Evidentemente Si è Svegliato All'improvviso Ha visto le chiamate E ci ha Contattati Va bene Tino Andiamo a lavorare E amen Avrà pazzo Non prenderà il caffè La macchina Non prenderà il caffè La macchinetta Però Avrà l'acqua Ecco Perché senza Non può Come fai senza acqua Ah certo Va bene Ciao 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 Ciao